Musica Noi abbiamo chiesto ed ho lavorato in queste settimane insieme ai Presidenti dei Consigli Regionali affinché ci fossero due proposte di delibera, una per abrogare totalmente la legge e una per abrogarla in parte. Noi sostanzialmente chiederemo ai cittadini e le cittadine del nostro Paese di esprimersi perché noi vogliamo un'Italia che non lascia indietro nessuno, vogliamo costruire le condizioni per cui un bimbo che nasce nel borgo più piccolo di un Paese del Sud di un'area interna e abbia gli stessi diritti di un bimbo che nasce a Firenze. Così il Presidente del Consiglio Regionali al termine della seduta dedicata interamente al tema dell'autonomia differenziata. In aula arrivano due proposte firmate dai capigruppo di PD Italia Via Movimento 5 Stelle, due richiesti di referendum della cosiddetta autonomia differenziata, una proposta per l'abrogazione totale della legge, una per quella parziale. Un no all'autonomia riferenziata perché è un provvedimento che spacca il Paese, dicono i proponenti, ad iniziare dal PD. Sì, noi riteniamo che questa sia una legge pasticcio che non risponde certo all'esigenza di far funzionare meglio i livelli istituzionali del Paese. La nostra Costituzione parla di un regionalismo cooperativo e non competitivo. In questo modo, con questa legge, che fa l'atto non ha stabilito prima i livelli essenziali delle prestazioni, non ha messo a disposizione risorse per riequilibrare le diseguaglianze che rischiano invece di aumentare tra regioni più forti e regioni più deboli. Dall'altro, questa legge che risponde di più alle spinte un po' secessioniste di una forza politica che sta al Governo, va letta in un combinato disposto con l'altra legge, che è quella sul premilato, che invece risponde all'applicazione delle spinte diriciste di un'altra forza politica di destra che sta al Governo. Vale a dire quella di avere un capo dell'esecutivo eletto direttamente dal popolo è difficilmente controllabile sia dal Presidente della Repubblica che dal Parlamento che con quella legge vengono oggettivamente indeboliti. Quindi da una parte, come dire, si spinge alla disgregazione, dall'altra si vuole creare il capo dei 20 staterelli che rischiamo di creare nel nostro Paese. Ecco perché siamo preoccupati e abbiamo indetto questa iniziativa assieme ad altre cinque regioni per chiedere il referendum che abroghi la legge 86 proposta al Ministro Calderoli in maniera totale o in maniera parziale se non fosse ammissibile la richiesta di abrogazione totale. Come detto il fronte referendario mette insieme le forze di maggioranza PD, Italia Viva ed anche il Movimento 5 Stelle, un fronte popolare, lo chiama qualcuno. Centrosinistra è compatto, unito, si allarga, cresce in Toscana, difende le peculiarità della Toscana e la nostra autonomia è quella di indire e richiedere l'indizione di un referendum, è un atto voluto dalla Costituzione, stiamo difendendo la Costituzione al cospetto di una norma voluta dal governo Meloni che fa contenta solamente la Lega, che divide l'Italia, che fa male alla Toscana, che differenzia in maniera eccessiva le normative per cui le regioni dovrebbero poi impegnarsi. Quindi è una difesa della nostra peculiarità e nel farlo abbiamo il coraggio di assumersi una responsabilità importante e soprattutto di unire un fronte politico nuovo. È fondamentale in questo momento storico della Repubblica unire tutte le forze civili e politiche per evitare quello che è uno smembramento dello Stato italiano, perché questa è l'autonomia differenziata e con il combinato disposto del premierato diventa chiaro che non è utile al cittadino medio, Toscano come Calabrese e come Veneto. È utile soltanto a una compagine politica, quella che adesso sta governando il Paese, che desidera avere un controllo assoluto anche dividendo ulteriormente l'Italia. Ampio il dibattito, tanti interventi. Sempre nel centro-sinistra, Anna Paris pone l'accento sul mancato rispetto, sostiene, dell'articolo 116 della Costituzione, quello che riguarda proprio i paletti delle forme di autonomia. Tu legge nazionale mi devi prevedere i paletti, le regole per dare luogo a quello che ti dice il 116, non io ti autorizzo a intervenire su tutte le materie della normativa complementare, mi dici in che logica entri e su quali materie tu puoi perché sono specifiche dei tuoi territori. Quindi io sono partita partendo dalla legge, partendo dalla Costituzione e poi mi sono messa a elencare in sede di Consiglio regionale quelli che sono secondo me i limiti e i rischi che porta questa autonomia differenziata al nostro sistema paese. Di tutt'altro opinione le forze di centro-destra. Per la capogruppo della Lega, la legge Calderoli porterà benefici anche alla regione toscana. Autonomia differenziata che crediamo essere un valore aggiunto che la Toscana potrà avere su alcune materie importanti. Io penso al tema della geotermia, penso al tema dei porti, penso al tema del turismo, penso al tema della cultura, una Toscana fatta piena di cultura, piena di musei, gestiti molto spesso anche dallo Stato centrale che rimangono chiusi anche in orari in cui invece magari la Toscana potrebbe garantire delle aperture ulteriori. Penso a tantissime tematiche che fanno belle alla nostra regione e che avrebbero bisogno di una gestione più vicina al cittadino, più vicina al territorio e quindi una gestione più regionale rispetto a una gestione centrale dello Stato. Siamo convintamenti a favore della legge, siamo sicuri che la legge andrà avanti e siamo anche sicuri che queste giravolte del Presidente Gianni, che prima del Presidente Rossi e poi del Presidente Gianni, che chiedono l'automia differenziata da tantissimi anni, porteranno anche alla regione toscana la richiesta di una serie di materie di competenza e quindi a far sì che la Toscana abbia più risorse e più autonomia su tanti temi che a tutti i toscani stanno a cuore. Il PD attacca il centro-destra perde così un'occasione? Beh, una occasione stramaledettamente persa quella con il Governatore Gianni su un tema che veritava ben altra importanza in Aula perché avremmo sicuramente potuto affrontare l'opportunità che rappresenta l'attuazione di questa previsione costituzionale per un regionalismo compiuto finalmente che avrebbe potuto perché no riaccendere anche qualche speranza civica e politica in questo Paese e anche in questa regione invece no. Ci troviamo inchiodati in un dibattito a seguito della richiesta del Partito Democratico di tentare il referendum su un tema che in realtà è stato accompagnato fino all'ultima legge quadro dalla sinistra di questo Paese, non soltanto Toscana. Su quali materie principalmente la Toscana beneficerà da questa legge? Sarebbe utile perché la Toscana ha sicuramente un'esperienza in materia di gestione dell'ambiente, dell'energia, in parte anche dal punto di vista dell'urbanistica piuttosto che della sanità e questa riforma aumenta i livelli di autonomia e quindi di gestione dei servizi più vicini ai cittadini e quindi con maggiore capacità di controllo sia da parte dei toscani sia da parte delle imprese. Una legge, dice chi oggi propone il referendum, dunque spacca l'Italia. Ma è un'invenzione del PD, nel 2017 e nel 2018 l'allora maggioranza di centro-sinistra delle regioni chiedeva alla propria giunta di attivarsi per avere più autonomia, cioè di attuare l'autonomia differenziata esattamente come previsto all'articolo 116 della Costituzione. È evidente che a sinistra sono in confusione perché se una cosa la fanno loro è buona, se la stessa cosa la fa il centro-destra spacca l'Italia. Così, chiosa il portavoce dell'opposizione, siamo convinti che Gianni fra qualche tempo chiederà di attuare anche in Toscana l'autonomia differenziata. Sicuramente il presidente di questa regione non potrà fare a meno che andare a chiedere autonomia differenziata su alcune maniere e noi saremo al suo fianco e vorremmo e pretenderemo che anche il Consiglio regionale si possa esprimere nel merito e non come fa il PD e questa sinistra ormai così allargata nella ideologia e nella gestione del potere. Nel dibattito interviene proprio il presidente della regione toscana che ribadisce il no a questa legge e parla del regionalismo che immagina. Io sono un regionalista convinto, ma come regionalista che prende lo spirito da quelli che erano i concetti delle regioni di Piero Calamandrei, sono convinto che il regionalismo significa possibilità di leggere il territorio nelle sue espressioni più peculiari, non di creare 20 regioni a statuto speciale, come di fatto con questo progetto di legge Caldaroli si propone. Quindi ormai le questioni sono fra un regionalismo, un'autonomia autarchica e un regionalismo, un'autonomia equa e solidale. Noi siamo per questa seconda direttrice. Comunicazione in aula dell'assessore ai trasporti Stefano Baccelli in vista del nuovo bando per l'affidamento del servizio di cavotaggio marittimo di collegamento con le isole dell'arcipelago toscano. L'attuale contratto con il gestore Toremar avrà scadenza il prossimo 31 dicembre. Il nodo, ha spiegato Baccelli, è l'interesse riscosso da una parte anche senza compensazione pubblica per la tratta Piombino-Portoferraio, mentre senza corrispettivo pubblico non c'è interesse per le alte tratte e per l'ambito di Capraglia e Giglio. Una situazione dunque molto disomogenea tra le varie linee, ha commentato l'assessore per la Regione la necessità di garantire la migliore offerta e il mantenimento dei servizi e la massima tutela dei lavoratori interessati. L'Aula al termine approva all'unanimità con 25 voti favorevoli una risoluzione collegata alla comunicazione. Nel testo si impegna il Presidente della Giunta a tenere in considerazione l'intermodalità dei trasporti, prevedendo la strutturazione degli orari dei traghetti rispettando le coincidenze con treni e autobus. Poi abbiamo introdotto sostanzialmente due questioni. La prima, il tema della gestione della tratta Campiglia-Piombino, da valutare l'ipotesi dell'inserimento nel bando per una gestione anche della tratta ferroviaria da parte dell'eventuale vincitore della gara per il trasporto marittimo, questo con due obiettivi. Il primo è di efficientare le coincidenze sull'asse tirrenico rotaia-rotaia e quello frontemare sul porto fra navi e treno e dall'altro quello di favorire e incentivare l'utilizzo del treno e quindi più in generale della mobilità dolce, delle biciclette a bordo, eccetera. Il secondo tema è quello della modernizzazione della flotta in termini ecologici per essere coerenti con gli investimenti che l'autorità portuale sta compiendo utilizzando le risorse del fondo complementare al PNRR per l'elettrificazione delle banchine. Questo accade a Livorno, a Piombino, a Portoferraio, quindi anche sulle tratte passeggeri sarebbe importante che si contemplasse l'ipotesi di adeguare la flotta per l'utilizzo di queste banchine elettrificate e quindi ricaricare le navi e gli impianti di bordo a motori spenti. Soprattutto a Portoferraio questo è importante perché le banchine sono adiacenti all'abitato. La risoluzione unanima arriva dopo un lungo dibattito dove le forze di opposizione avranno espresso alcuni dubbi in merito al bando. Il primo è il lotto unico perché non possiamo accettare l'idea di una frammentazione che scarichi sulle tratte più deboli i costi e rischi di tagliare i trasporti, soprattutto per le isole minori, Capraia e Il Giglio in particolare, ma anche per alcune corse dell'isola d'Elba. Poi c'è un problema di tariffe perché il lotto unico evidentemente può consentire di sostrare sulla parte buona del trasporto marittimo, cioè quella per esempio che fa riferimento al turismo, per consentire anche attraverso un contributo della Regione Toscana di ammortizzare le tariffe a favore dei residenti, in modo particolare i pendolari e gli studenti. E poi abbiamo chiesto alcune garanzie di natura ambientale come per esempio l'adeguamento della flotta, un ringiovanimento della flotta, anche lavorando magari sulla durata del contratto di affidamento e per esempio, richiesta esplicita di Fratelli d'Italia, la realizzazione, come previsto anche nei piani di sviluppo dei singoli porti, di sistemi di approvvigionamento dell'energia elettrica delle navi che sostano durante la notte che possa essere effettuato direttamente appunto attraverso il sistema elettrico nazionale e non tenendo i motori accesi tutta la notte, sia per ragioni ambientali sia in alcuni porti anche per ragioni naturalmente di basso impatto acustico nei confronti dei residenti e dei turisti. Noi lo abbiamo sempre detto, in questi anni non è pensabile che si possa pensare ad uno spacchettamento delle tratte e delle linee e serve invece un lotto unico che garantisca anche il finanziamento per la continuità territoriale di tutte le linee. Non si può confondere l'aspetto fortemente di principio che riguarda appunto il finanziamento che la regione dà per la continuità territoriale, cioè per permettere pari opportunità o perlomeno di avvicinarci a pari opportunità degli abitanti delle isole dell'Arciperia Autoscana rispetto a quelle della terraferma e confonderlo con il principio commerciale dicendo che se una tratta come quella di Piombino-Portoferraio si autosostiene commercialmente possiamo non finanziare quella linea. È un concetto che noi non possiamo accettare. Ci sono poi tutta una serie di problematiche. Siamo fortemente preoccupati innanzitutto per la questione dei lavoratori, dei marittimi che chiaramente in un eventuale cambio di gestore si troverebbero probabilmente anche in una sorta di esubero di personale e non basta solo una clausola sociale che possa garantire i diritti di questi lavoratori. Il merito maggiore di questo libro è questo qui, di avere ripercorso la storia di anni terribili per l'Italia e anche di anni terribili per il carcere attraverso le musiche che al carcere fanno riferimento. Metà giardino, metà galera, le parole del carcere nella musica italiana. È il volume scritto da Alessia Lavilla e Leandro Vanni e presentato a Palazzo del Pegaso in una giornata dedicata alle carceri italiane che ha visto la presenza delle garante dei diritti dei detenuti. La storia delle istituzioni carcerali italiane dalla Secondo Guerra ad oggi seguendo il filo delle canzoni di De Andrè, Vecchioni, Gabera, Silvestri, Dalla e tanti altri. Sono tutte canzoni di un'estrema attualità perché ogni canzone in realtà affronta una tematica particolare. Abbiamo le canzoni dedicate al tema del purtroppo attualissimo dei suicidi in carcere ma anche al tema dell'affettività, della sessualità dei minori, dell'uomo che esce dal carcere. Quindi veramente tocca a 360 gradi tutto quello che può essere considerato l'universo penitenziario. Prendiamo quindi spunto da questo simoro, metà giardino, metà galera, rifacendoci a quella bellissima canzone di Francesco De Gregori che è Viva l'Italia. Ci è sembrato lo simoro e la frase più giusta per una canzone importante, per un testo piccolo nel suo complesso ma significativo che ripercorre appunto la storia di questo paese attraverso le sue carceri. Musica, canzoni e progetti all'interno delle carcere, come avviene a Livorno? La musica e nello mio specifico la musica corale rientrano appieno nell'area trattamentale dato che attraverso quello che è l'esperienza della musica corale si vanno a toccare quelli che sono i sentimenti magari non educati nell'arco della vita di una persona e che in questo caso attraverso l'armonia musicale che però si allarga a quello che può essere una armonia sociale si instaurano delle nuove relazioni, dei nuovi tipi di incontro con l'altro attraverso l'ascolto, attraverso l'attesa, attraverso quelle che sono sì pratiche musicali ma che possono essere anche delle pratiche sociali ed un punto importante è anche quello della risocializzazione perché attraverso anche degli incontri con coristi che fanno parte appunto del tessuto cittadino livornese si fanno dell'ampliamento di coro in cui cittadini comuni e coristi detenuti si incontrano per poter cantare insieme quindi un'esperienza che va oltre quello che è soltanto la pura attività corale